Hai mai sentito parlare del cloud bread? Si tratta di un piatto perfetto per tutti coloro che hanno intolleranza al glutine, problemi di glicemia o semplicemente per chi vuole perdere peso e rimanere in forma. È particolare perché è fatto senza farina e possiede una consistenza morbida, ecco perché viene definito pane nuvola. Prepararlo è molto semplice, servono due uova, circa 50 grammi di formaggio spalmabile e un pochino di lievito. In una ciotola separate i tuorli dall'albume, sbattete i tuorli e il formaggio fino a ottenere un impasto liscio. In un'altra ciotola sbattete l'albume con il lievito e unite le due preparazioni. Stendete su una teglia con della carta a forno delle cucchiaiate di impasto dandogli una forma circolare e cuocete in forno preriscaldato a 150 gradi per circa 15 minuti. Il cloud bread può essere consumato anche in diversi modi, può diventare una base per una pizza, in alternativa può essere farcito come un normale panino, oppure avendo un sapore neutro si abbina bene anche i dolci, può essere consumato come un pancake oppure come base per la marmellata.